Eee what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherini in questa nuovissima reaction Oggi ragazzi giorno carico di video ma son contentissima così Siamo qui per vedere il launch trailer finalmente ragazzi di Life is Strange 2 Che è stato pubblicato se non sbaglio l'altro ieri se non erro Si il 20 settembre dura due minuti non voglio dilungarmi troppo nel parlare Voglio andare a vedere il trailer ragazzi vediamo un po' che cosa ci faranno vedere questa volta Ah purtroppo ragazzi mi sa che non ci sono i sottotitoli in italiano Comunque sono attivati i sottotitoli in inglese Spero di riuscire a capire tutto insomma quello che verrà detto Andiamo a guardarlo 18 What's happening What you and your brother have is the most important thing Wish I could go back to my town Hey just the son I wanted to see The cops are talking to everybody at school Hey don't ever touch my brother I didn't do anything Okay step away now calm down officer Shut up On the ground What the hell No way Sean maybe you could come back I'm sorry Laiva I can't I have no idea where we are What I'm doing Feels like we're walking nowhere Sean I'm scared I'm right here How am I supposed to take care of us out here I know who you are and what you did Daniel go You and your brother are going to chill for the rest of your lives Leave us alone What's happening What you and your brother have is the most important thing He needs you and you need him Daniel come on Daniel Oh my god Wow Wow Madonna Ragazzi Oddio Il proprio episodio Il servente set Ormai manca poco Wow Ragazzi Wow Wow Il trailer mi ha emozionata Ovviamente Vogliono far girare tutto Cioè La questione Vogliono far girare tutto Intorno al fatto Ragazzi Che ci sono questi due fratelli Che quindi Il loro legame È importante Che quindi Probabilmente Tutto è successo Proprio per questo motivo Perché il fratello più grande Che adesso Con marito Che si chiamava Sean Ok Sean evidentemente Ha scatenato Tutto quel casino Ragazzi Proprio per difendere Il fratello più piccolo Se non ho capito male E quindi Sono dovuti scappare Perché probabilmente È successo qualcosa Di molto più grave Infatti c'è un tipo Che ha detto Oh io so Che cosa avete fatto Andrete in carcere Per sempre Una cosa del genere Quindi è successo Qualcosa di più grave Di forse Di quello che Avevamo capito All'inizio E quindi Loro Devono scappare Il fratello più grande Ovviamente si sente Responsabile Del fratello più piccolo E tutto ruoterà Attorno a questa cosa Ragazzi Figo 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 Mi è piaciuto Mi sta convincendo Sempre di più Che ne varrà la pena Ragazzi Secondo me Sarà bello Io mi auguro Che sarà bello Quanto il primo Probabilmente Avranno dovuto Inserire delle meccaniche Un po' più nuove Ovviamente Per svecchiare Sapete Comunque Appunto Le meccaniche stesse Per non renderlo Forse troppo identico Al primo Life is strange Ci saranno quindi Probabilmente Elementi nuovi Il potere Di Sean Credo che sia Non sarà Ovviamente Uguale al potere Di Max Che era quello Di riavvolgere il tempo Per lo meno Mi sembra Di aver percepito Questo Perché si Ti fanno vedere Delle cose ragazzi Però non ti Non ti permettono Di capire tutto Fino in fondo Quindi ti lasciano Sempre col dubbio E questo mi piace Ovviamente Non è che ti possono Far vedere già tutto Cosa che ti spinge Sicuramente A comprare il gioco A giocartelo Cosa che io farò Mi chiedete sempre Se porterò Life is strange 2 La risposta è Sì ragazzi Ovviamente Lo comprerò Mi avete aiutato Con le donazioni E di questo Vi ringrazio tantissimo Quindi Presto in arrivo Ragazzi La serie Su life is strange 2 Mancano Soltanto 5 giorni All'uscita Del primo episodio E io Già Non vedo L'ora Ragazzi Sto fremendo Tantissimo Ovviamente Fatemi sapere Voi in commento Ragazzi Che cosa ne avete Pensato Di questo Ennesimo trailer Quindi Questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione E obdoscia A tutti Ragazzi Ciao Ciao